ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video dove vi farò vedere tutti dei campioncini di fondotinta che mi sono stati dati da sephora perché avevo intenzione di provare i loro prodotti allora inizio a inizio a mettere il makeup vedete già gli occhi fatti perché avevo girato anche un altro video metterò il contorno occhi questo qui di sephora mi piace tantissimo come contorno occhi mi sto trovando bene e lo applico direttamente con le dita mi lascia proprio questa parte abbastanza morbida e fresca questo video è fatto proprio per provare dei fondotinta che mi hanno dato dei campioncini da da sephora e quindi volevo farvi questa serie di video per quanto riguarda questi fondotinta la base la farò controlliamo la base la farò sempre uguale quindi stesso contorno occhi stessa crema perché è la crema che sto utilizzando in questo periodo e stesso primer perché quello che sto utilizzando in questo periodo l'unica cosa che cambierà ovviamente sarà il fondotinta la crema che sto utilizzando adesso è della saponaria si chiama mirtilla è ottima come crema io mi ci trovo bene mi tiene il viso abbastanza uniforme tutto direi che un'ottima ottima crema la metto con la beauty blender la potete mettere con qualsiasi cosa io vi farò vedere l'applicazione con il pennello con la beauty blender andiamo ad applicare adesso il primer io utilizzo questo qui della essence io mi ci trovo benissimo sinceramente con questo primer molto molto bene l'ho utilizzato tantissimo in estate lo sto utilizzando anche adesso considerate che non mi trucco sempre però quella volta che mi trucco ancora mi sta durando mettiamo anche qui un po di prima speriamo che mi trovo bene con questo colore io sinceramente ero molto non sapevo che colore utilizzare se questo fondotinta sono ottimi per la mia pelle tutto allora io una pelle secca cioè mista che va sul secco o la pelle screpolata devo idratarla spesso io poi faccio maschere metto sempre creme viso proprio per idratarla io ci tengo ma non perché abbia una certa età allora il fondotinta che vi voglio tra virgolette far vedere l'applicazione sul mio viso è il fenty hydrating questo è il numero 150 mi è stato dato il 150 perché dicono che sia bene sul mio viso e il colore è questo non so se si nota questo qua andiamo a provarlo lo metto qui nella nella mia spatolina lo mettiamo qua e vediamo com'è questo fondo anzi no lo applico direttamente sul perché sennò mi viene male lo applico direttamente sul viso lo sento un po corposo questo fondo dovrebbe essere il mio colore allora iniziamo e farò questa parte con un pennello da sfumatura voglio provare questo qui di make up revolution no della revolution pro dicono che ho un ottimo pennello per fondotinta e quindi vediamo come si comporta andiamo all'applicazione e nel frattempo scarico il prodotto anche in fronte come mi è stato detto da una ragazza di applicare il fondotinta e poi la rimanenza utilizzarlo per la fronte e questo è l'applicazione del fondotinta con la con il pennello adesso andiamo a vedere con la spugnetta io sono abituata a fare con la spugnetta allora il fondotinta è molto corposo vabbè ne parliamo dopo allora che dire ragazzi abbiamo detto che da questo lato ho utilizzato il pennello e da questo lato ho utilizzato la spugnetta io non so se voi si vede diciamo dalla fotocamera ma non è che mi piaccia molto questo fondotinta di vedere io lo vedo a differenza di altri fondotinta che di norma non vedo di copertura diciamo che non copre tanto perché qui ho il colore della tintura e non li ha molto coperti io non ho delle cose da coprire pazzesca sul viso quindi diciamo che non mi serve uno che mi copre così tanto la macchia nella fronte io la riesco anche a vedere adesso io non cerco di non coprirla tanto perché non mi interessa sinceramente ma noto che in questa parte qua sembra che io abbia la pelle screpolata ma non ce l'ho è come se si dividesse diciamo il fondotinta e questa cosa non mi piace molto non mi piace non mi piace molto non mi piace allora andremo a utilizzare la mia solita cipria perché utilizzo sempre quella e quindi voglio utilizzare quella ed è questa qui di elf ed è una cipria traslucente quindi non dà né colore né niente l'ho soltanto buttata da tutte le parti allora ragazze ho appena messo il blush ho messo un rossetto e sicuramente noterete un make up abbastanza particolare ma questo è il video ho fatto due in uno ovviamente che riguarda il make up per quanto riguarda la collaborazione fatta con fabiana e le altre ragazze per quanto riguarda la befana sexy un make up di befana sexy ovviamente ve la linkerò qui o qui non mi ricordo dove che si trova e niente quello è un video a parte allora allora che dirvi io ho provato questo fondotinta mi piaciucchia non è un fondotinta in cui io diciamo di cui io sono abituata io li preferisco abbastanza più liquidi questo è un bel po' compatto non è proprio liquido liquido allora di coprire è una bassa coprenza non vedo proprio perché mi segni per quanto riguarda il colore dei capelli tutto l'ha lasciato io non ho proprio delle cose da coprire così esagerate mi è piaciuto sì e no perché io lo vedo sinceramente se mi metto vicino allo specchio io vedo il fondotinta invece a me piace una cosa vedo non vedo visto che non devo coprire chi sa tanto con l'effetto della cipria ha ammortizzato diciamo il fatto che si è aperto qui ma il brufolo che io ho qui sul mento è rimasto così l'ho coperto ma io lo vedo ecco qua ecco qui il re del rosa quindi non lo so lo proverò di nuovo per darmi un altro più un altro diciamo per vedere un altro effetto lo utilizzerò sempre con i prodotti che avete visto poco fa e vediamo se avrò altre novità vi farò un'altra recensione se le altre novità non ne avrò nel senso che mi sembra lo stesso della recensione che vi sto dando adesso vi dirò in poche parole che io per adesso non lo acquisterei quindi mi sono risparmiata questi soldi vi scriverò qui quanto costa e quindi significa che ho risparmiato questi soldi io preferisco il Face & Body di MAC o il Fresh & Fit di Essence per adesso sono quelli che io preferisco anzi preferisco anche questo di L'Oreal che è fantastico poi vi farò piano piano un video per quanto riguarda tutti i miei fondotinta e l'applicazione sia con il pennello che con la spugnetta come questo quindi ditemi cosa ne pensate se vi piace questa tipologia di video nel farvi vedere l'applicazione del fondotinta con pennello e spugnetta così da vedere quale applicazione sia migliore dell'altra e niente che dirvi di più io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao